Buongiorno a tutti, ci troviamo qui a TuttoFood 2023 e siamo qua con il direttore commerciale di Caffè Borbone, Francesco Garufi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno, buongiorno, benvenuti. Grazie mille, è un vero piacere ritrovarci di nuovo qua a TuttoFood e appunto parliamone come va questa fiera e che novità di prodotto presentate. Allora, innanzitutto diciamo che questa è la nostra fiera per il nostro consolidamento in Italia sul mercato della grande distribuzione. sta andando a gonfie vele, siamo molto soddisfatti, contenti, l'accreditamento dei clienti è eccellente. Noi lanciamo in questa fiera, lanciamo praticamente la cialda leggera, una cialda 50% decaffeinata e per il 50% una miscela che ripercorre la nostra miscela nobile. e pensiamo di attirare e attrarre nuovi consumatori anche nel segmento cialde, dove noi siamo leader assoluti di mercato. Voi state dando tantissima importanza giustamente alla sostenibilità, sia dal punto di vista appunto della vostra mentalità, dei vostri prodotti quindi? Sicuramente, la nostra ricerca e sviluppo è molto avanzata da questo punto di vista, tant'è che siamo stati primi a lanciare la cialda compostabile con incarto riciclabile. e continuiamo a lavorare anche su questi aspetti, su altri sistemi, guarda anche la modomia, abbiamo fatto la modomia compostabile. Stiamo entrando nel mondo della riciclabilità nel discorso dell'alluminio con l'Ana Espresso, ma non ci fermiamo qua. Ci sono progetti in cantiere che vedremo nel corso dell'anno e saranno pronti per il 2024. Invece le faccio anche un'ultima domanda altrettanto fondamentale. Il mercato del caffè monoporzionato come sta andando? Cosa ci sta a dire su questo? Il mercato del caffè monoporzionato sta tenendo ancora dei regimi di crescita meno importanti di prima ma in evoluzione perché praticamente la fase di grossa crescita che abbiamo avuto negli anni precedenti non è più così preponderante. Però possiamo dire sempre con grossa soddisfazione che noi costituiamo il driver di crescita per questo mercato. Ci attestiamo oggi a una crescita in termini di fatturato dal più 7 più 8 del mercato. Bene, complimenti. Allora immagino che siate soddisfatti. Siamo molto soddisfatti innanzitutto e siamo consci del fatto che ci possiamo giocare la nostra partita anche per future crescite e futuri sviluppi aziendali.